ciao a tutti in questi anni ci siamo occupati spesso di disabilità e uno dei problemi più frequenti che capita quando si parla con le persone disabili è quello ovviamente dell'abbattimento delle barriere che non sono solo barriere architettoniche ma è anche il concetto di abbattimento di barriere culturali e sociali e ovviamente tutto questo è legato all'integrazione delle persone con disabilità all'interno della società per questo motivo abbiamo depositato questo progetto di legge che parla di progetto di vita indipendente sostanzialmente fa diventare la persona con disabilità da semplice attore passivo delle politiche sociali a persona attiva che determina la propria autonomia e la propria indipendenza appunto con un progetto di vita indipendente attraverso l'aiuto di una persona persona che può essere un amico un parente o comunque una persona appunto di fiducia della persona con disabilità il quale instaura un rapporto di lavoro e decide assieme alla persona con disabilità di attuare tutti quei progetti di vita per far sì che appunto ci sia la piena integrazione all'interno della società altro tema che abbiamo inserito all'interno di questo progetto di legge quello delle agenzie rivolte alle persone con disabilità sostanzialmente in un rapporto alla pari agenzie formate da persone con disabilità che si rivolgono ad altre persone con disabilità e offrono loro tutti quei servizi che possono essere utili alle persone come ad esempio anche semplicemente servizi fiscali o di consulenza questo progetto di legge naturalmente lo trovate caricato sulla piattaforma russo aspettiamo i vostri suggerimenti le vostre proposte di modifica o di integrazioni per poterlo rendere ancora migliore grazie a tutti